Buongiorno, mi chiamo Guido Mondino e sono l'autore del libro I tre circoli del potere che vi mostro immediatamente. Eccolo qui, è stato pubblicato dalla Edibus nel giugno del 2020. Due rapidissime parole su di me perché in realtà preferisco parlare del libro. Dopo una discreta carriera come manager in alcune multinazionali, da poco più di 20 anni abito in Canada dove ho una mia attività imprenditoriale. Il romanzo I tre circoli del potere è un thriller liberamente tratto da una storia vera, crudele, molto complessa e che affonda le proprie radici in un tempo lontano. Quindi, se vogliamo, è un romanzo giallo basato su fatti storici dove io poi ho preso la libertà di inserire alcuni elementi di fantasia. Lo scenario iniziale risale al periodo 1992-93, un biennio che molti di voi ricorderanno essere stato un momento critico e davvero difficile per la storia nazionale italiana, un periodo nel quale sono avvenuti fatti assolutamente atroci. E in questo scenario si inseriscono tre suicidi eccellenti di tre uomini di altissimo rango. E sono tre suicidi misteriosi perché ogni volta sul luogo del ritrovamento in realtà c'è almeno un elemento che contraddice la teoria del suicidio. Il primo riguarda l'ex direttore del Ministero delle partecipazioni statali che viene rinvenuto con il cranio fracassato da un colpo di rivoltella, solo che la rivoltella è infilata sotto la cintura dei pantaloni del morto con il cane rialzato. Nel corso dell'inchiesta verranno fuori anche altri elementi contradditori, però questo è il primo che colpisce immediatamente. Il secondo suicidio misterioso riguarda il presidente di un ente statale il quale si trova era inchiuso in un carcere per essere interrogato su questione di corruzione. E l'uomo viene ritrovato, suicida, nel locale docce del carcere con la testa infilata in un sacchetto di plastica assicurato da un cordino molto resistente e annodato strettissimo. La cosa strana è che tutto ciò avviene a metà mattina in un orario in cui nessun detenuto dovrebbe trovarsi nel locale docce, quindi non si capisce come e perché questo particolare detenuto ci sia arrivato. Il terzo suicidio riguarda invece un famosissimo imprenditore e presidente di un gruppo industriale, il quale viene rinvenuto sul letto con la tempia trapassata da un colpo di pistola, però la pistola non è a fianco al morto, si trova sul mobile a qualche metro di distanza. Quindi sono tre suicidi che presentano sempre dei lati inquietanti, aprono la porta a dubbi e domande e tra l'altro i tre personaggi sono tutti legati da un'inchiesta della magistratura su un fiume di denaro in nero e tutti e tre dovevano più o meno essere interrogati lo stesso giorno o il giorno dopo. La scena si sposta al 2006 dove due amici di vecchissima data si rincontrano, uno è un giornalista, l'altro è un manager, parlano di tante cose, durante una cena arrivano a parlare di questi tre avvenimenti e decidono di cominciare un'inchiesta a titolo personale, aiutati comunque dal direttore del quotidiano e sono anche supportati da un colloquio avvenuto anni prima fra uno di loro e l'ex direttore dei servizi segreti militari, il quale ha fornito molti elementi e soprattutto una pista da seguire. Dunque i due volenterosi si avventurano in questa selva oscura come direbbe Dante e la prima cosa che scoprono è che esiste o esisteva un traffico d'armi illecito gestito da personaggi obliqui e altrettanto oscuri e si trovano in un sottobosco popolato da personaggi che provengono dal mondo della politica, della finanza, dei servizi segreti, della criminalità organizzata, i servizi segreti italiani e non e anche della massoneria e scoprono anche che esisteva una cabina di regia dietro tutti questi avvenimenti dove un personaggio politico assai rilevante tira le fila e durante una riunione di questo comitato viene detta la frase seguente che vi leggo testualmente. Certi uomini non sanno porre limiti al proprio comportamento, tutti insieme si sentono forti ma poi diventano vili quando pensano alla propria salvezza, dimenticando e tradendo chi li ha aiutati a diventare grandi. Tradiscono per paura e debolezza. Bruto, Giuda e Cassio sono accomunati da identico destino come ci mostra la storia, dunque traete l'insegnamento e comportatevi di conseguenza. Una frase assai inquietante. Andando avanti nella loro inchiesta i nostri amici incontrano anche un pentito della malavita al quale non solo fornisce degli elementi chiari e netti su almeno uno dei tre suicidi che suicidio non era, ma che li porta anche a incontrare altri personaggi disponibili a parlare e che li aiutano a illuminare gli angoli oscuri. Quindi in un turbinio di eventi concatenati che si sosseguono a ritmo abbastanza serrato, i due amici non solo riusciranno a scoperchiare il vaso di Pandora, ma troveranno il bandolo della matassa che li aiuterà a capire quale sia la vera essenza dei tre circoli del potere.